bella a tutti scuole e pesciolini benvenuti in questo nuovo video sono siete sbocciati dei dana shucks oggi siamo qui su pubg cioè su battleground vi farò vedere quanto sono scarso su battleground e dopo deciderete voi che cosa vi devo portare battleground overwatch fortnite decite voi su battleground molto spesso sto anche con un amico e solo che ora non c'è perché non so perché non c'è non c'è la si ce l'ho fatta ok non bene sono un cesso quindi starò da solo quindi muoierò subito ragazzi vado andrò a shelter a shelter è il posto che conosco meglio e che mi piace di ragazze shelter e ruins io vado o a shelter o a ruins che alla fine non è né un posto sperduto perché qualche team che qualche persona va e ne è troppo affollato come prison o school ospital è una via di mezzo quindi è abbastanza divertente che magari non trovi nemmeno dove sto che e nemmeno si trova gente da tanta gente tanta gente potrei morire subito come potrei vincere come potrei morire in me ma secondo me muoierò subito io da solo non faccio mai perché mi scorcio gioco sempre in team non per altro perché da solo scorciante magari se solo se arriva uno stronzo da dietro e muori così a caso e poi da solo si tende più a camperare in team invece no in team invece si va a yolo comunque in team non c'è nessuno boh sta uno a fabbrica ok no c'è 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 un tipo c'è un tipo che sta scendendo a shelter con me c'è con me conti di me però sta scelta devo trovare un'arma prima di lui vorrei un pompa perché io col pompa qui a shelter faccio un macello però qualsiasi arma mi avrebbe ok una k è un saika mo e che è qua e un sks sks forse del lui dovrebbe stare lì in quella zona madonna mia ragazzi ho luttato che una 2 a k e vabbè ragazzi che volete lui dovrebbe stare da queste parti io c'ho di saika pronto ho l'ho trattata abbastanza bene adesso mi serve solo un mirino magari devo stare attento perché stava uno l'ho visto l'ho visto scendere ok vediamo un po' vediamo un po' oh ma dai cacchio si nessuno no o quello un mirino e un 4 per perfetto un 4 per non c'è a questa sera il mirino sul pompa c'è sul saika no non è che cosa è stato un m16 al cinque troppo magari per le saika in questo momento ma stava mai e mai mai l'ho visto è che non è entrato guardato non c'è caccia nessuno se avrebbe un elmo anche di livello 1 non c'è nemmeno un elmo trovato che cosa vabbè ah no eh no non è un elmo qua dove sta la gente non si sa qui si è volutato invece non è aiutato per il car 6 non troverò mai il car barra e niente ragazzi non c'è nessuno mentivo io l'ho visto scendere uno però eh lo 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 giuro il car c'è andato forse non è entrato dice un cappello un cappello vabbè un elmo per per la motocicletta se mai ci sarà una guerra qui da noi so che mettermi in testa un elmo da motocicletta c'è un mini che sto c'è qui dentro no preferisco l'SKS al mio l'SKS credo sia la mia arma preferita vabbè esco se siamo in 71 dovremmo essere nella media ancora dunque stava un botto di roba scelta oh non la posso sparare troppo lontano però se io mi avvicino lui non mi ha ancora visto cosa fare dove sta? dove andate? dove andate? c'è qualcuno anche a nord ok killa è un e fuori nice nice e io che confondo ci spugli con le persone non voglio andarlo a lutare perché sta un po' troppo in mezzo quindi oh una macchina non mi conviene andarlo a lutare è un po' troppo in mezzo però voglio bisogno di qualche cosa per curarmi no bugio ce li ho le cure non lo so lui è morto proprio perché l'ho visto che stava in mezzo ai campi mi ricordo andare dentro magari lì c'è un energy drink cos'è? ah no è un murino dove è morto? dove l'ho ucciso? non era qua vediamo che l'ho ucciso a quello bu l'ho perso ragazzi ho perso il corpo che cazzo? no non lo so ragazzi ho perso il corpo sì il corpo il corpo ecco i cespugli sono la miglior cosa ragazzi mamma mia non ti vede nessuno il sai che dovrei cambiarlo forse ora solo che mi piace troppo perché non lo so mi sento al sicuro col pompo solo che poi quando lo uso muoio perché ovviamente è solo da corta distanza l'SKS in realtà è media lunga distanza quindi potrei anche usare l'SKS per media lunga perché per corta c'è l'SKS cioè c'è il saika per lunga c'è l'SKS per il medio non ho niente però l'SKS in realtà cioè sì l'SKS dovrebbe essere buono anche per il medio però è un 4x quindi medio ci ci sta un medio non ho niente vabbè intanto ragazzi muoio subito siamo già a 54 in realtà siamo abbastanza pochi già di 7 spari oddio sento una macchina eccola l'ho vista si ferma? no va avanti non ha senso sparare ragazzi io non so sparare alle macchine quindi non lo faccio oh ecco un tipo che si stanno ammazzando vicenda mi sa ah ma c'è un drop lì ecco perché c'è c'è il drop in mezzo a nulla sopra un camion c'è il drop dovrei sparare il camion per distruggere ma non credo se ne vuoi vedere da qua aprirsi il drop ci sono rimasto di merda allora dove è andato? beh è scomparso con la macchina no eccole là eh se ne è andato pazienza è andato verso il centro mi sa eccole là mi vuole investire o cosa? qualcuno lo spara lo sta sparando ecco l'ho visto quello stronzo guardalo 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 da dietro no chi è stato lui? nooo sono morto e niente ragazzi sono morto come una merda ma ne stavo un altro oppure mi ha spiegato ma non ho idea e vabbè niente ragazzi sono morto come una merda pensavo di uccidere invece mi ha ucciso lui e niente ditemi cosa farò ci vediamo nel prossimo video vabbè ragazzi ciao ciao ciao